Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per questa nostra prima lezione di algebra oggi parleremo delle lettere al posto dei numeri. Nel corso di questa lezione dovremo essere in grado di elencare alcune espressioni contenenti lettere, sostituire valori numerici alle lettere in un'espressione letterale ed infine spiegare l'importanza delle espressioni letterali. Ma prima di andare ad affrontare questi tre temi, secondo me è importante anche capire un attimo da dove viene questo termine che useremo molto spesso da qui in avanti, ovvero la parola algebra. Quindi da dove nasce il termine algebra e cosa sta a indicare e perché andrà a indicare proprio quel tipo di matematica che faremo da qui in avanti. Il nostro viaggio ci porta indietro nel tempo e più precisamente sia nel nono secolo. E il protagonista della nostra storia è questo signore qui, che vedete sulla sinistra, dal nome abbastanza complicato, Abu Jafar Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi. Tante cose, la parola stessa Al-Khwarizmi starà alla radice di un altro termine che si usa tantissimo in matematica ma anche nelle tecniche di programmazione, ovvero la parola algoritmo. Ebbene, questo signore Al-Khwarizmi nel nono secolo, lui era un punto matematico, scienziato, astronomo, all'epoca una persona che si dedicava alle scienze matematiche, in generale si dedicava a tutti i campi della scienza. Ecco, lui scrisse un libro, come lo chiama lui, un compendio che riguardava vari argomenti di matematica, ma in particolar modo riguardava la risoluzione delle equazioni di primo grado e di secondo grado. Tante cose, l'equazione di primo grado sarà uno degli argomenti che affronteremo appunto nell'algebra di quest'anno. Questo libro, anch'esso dal nome molto lungo e complicato, però conteneva al suo interno due paroline che vedete qui, Al-Jabr, che letteralmente significa completamente, completamente una delle tecniche di risoluzione dell'equazione di secondo grado, però potete già capire a suono che le parole Al-Jabr andranno successivamente a formare la parola nostra, cioè algebra. Ora, cosa indica algebra? In realtà l'algebra è un ramo molto grande della matematica, quindi una definizione semplice non sarebbe possibile. Tuttavia noi, almeno per i nostri scopi, possiamo un po' ridurla a una definizione molto essenziale. In particolare possiamo dire che l'algebra è quella matematica che mette insieme numeri e lettere. Cioè noi finora abbiamo fatto una matematica con i numeri, con le operazioni aritmetiche tra numeri interi, numeri decimali, frazionali e così via. Inserendo anche le lettere nel quadro generale, ecco che noi abbiamo l'algebra. E messo così sembra che stiamo ad affrontare un argomento completamente nuovo. Invece non è così, perché in realtà sì, dalla prima media, ancora prima, dagli anni elementari, voi avete utilizzato espressioni che contenevano sia lettere che numeri. E per chiarirmi ancora meglio, andiamo a vedere tre espressioni. eccole qui. La prima, come vedete, dice A uguale B per H. Tra altre cose, questo è un aspetto che poi vedremo più in dettaglio più avanti, nel caso di moltiplicazioni tra lettere o tra numeri e lettere, in genere, il segno di moltiplicazione non si mette, si lascia sottointeso, come anche si può dire, viene omesso. Ecco, quindi abbiamo A uguale B per H, C uguale a 2P greco R e P uguale a 4L. Ora vi chiederei anche di mettere un attimo in pausa questo video e pensare a cosa si riferiscono queste formule che avete già incontrato. Ecco, molti di voi avranno già riconosciuto nella prima la formula che ti permette di trovare l'area di un rettangolo più generalmente di un parallelogramma se se ne conosce la base e l'altezza. La seconda rappresenta la formula per trovare la lunghezza della circonferenza, una volta che se ne conosca il raggio. Ed infine, l'ultima formula ci permette di trovare la lunghezza del perimetro di un quadrato, o anzi, più generalmente di un rombo, una volta che se ne conosca la lunghezza del lato L. Queste sono tutte formule che abbiamo già incontrato e sono formule che contengono sia numeri che lettere, quindi già possiamo avere un assaggio dell'importanza dell'algero, cioè di una matematica che non sia basata solo sui numeri ma anche sulle lettere. Ma voglio essere ancora più chiaro con un esempio, un esempio tratto dalla matematica dell'anno scorso, quindi dalla matematica delle aree e delle figure piane. Quindi noi abbiamo un rettangolo, ecco lo vedete qui, di cui noi andremo a misurare la base, andremo a misurare l'altezza, ma noi sappiamo già che qualunque sia il nostro rettangolo la formula dell'area è data da B per H. In questo caso vedete qui ho usato la X, cosa che cercherò di fare il meno possibile per indicare segni di moltiplicazione. Va bene? Questa è la formula generale, anzi mi spingerei a dire la formula universale per trovare l'area del rettangolo. Il passaggio successivo, quindi il passaggio al caso particolare, sarà di trovare i valori di B e H e poi sostituirli nella nostra formula qua su. E allora andiamo a fare proprio questo, abbiamo per fortuna un righello, andiamo a misurare, come vedete la lunghezza della base è esattamente 8 cm, non è un caso, l'ho disegnato apposta, il rettangolo così e se ruoto il mio righello e misuro l'altezza scopro che anch'essa è 5 cm e come vedete qui ho già anticipato il risultato, quindi riscrivo la mia formula in caso generale, tra le altre cose voi sapete che quando andremo a risolvere i problemi insieme io mi aspetterò che voi prima scriviate la formula letterale e poi sostituiate i numeri al suo interno. I numeri in questo caso ho messo anche in unità di misura, normalmente non è necessario, basta metterla nel risultato finale, quindi abbiamo 8 cm, è il valore della base, 5 cm, il valore dell'altezza, moltiplicati fa 40 cm quadrati. E di nuovo mi preme veramente per farvi capire l'importanza, questa è una formula universale, la formula letterale vale per qualsiasi rettangolo, questo è il caso particolare di questo rettangolo. Ora io ho usato spesso la frase espressione letterale, allora qui è importante anche dare delle definizioni per capire anche quello di cui noi parleremo di qui in avanti. Allora noi diremo che un'espressione letterale è data da numeri e lettere collegati da segni di operazione, ok? Quindi segni di operazione significa addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, ma anche potenze e radici. Quindi tutte queste costituiscono un'espressione letterale, non se c'è l'uguale. Poi vediamo cosa succede quando abbiamo delle espressioni letterali che sono collegate da un segno di uguaglianza, va bene? Quindi per tornare indietro un attimo nel nostro esempio del rettangolo, questa parte qui è l'espressione letterale, ok? Quindi in realtà questo è un piccolo errore. L'espressione letterale non è A uguale a B per H, ma solo B per H, o se vogliamo anche solo A. Quindi questa è un'espressione letterale. E parlando di espressioni letterali o di uguaglianza a espressioni letterali, scusatemi, io sono un fisico come formazione, potevo non citare quella che è la formula che unisce lettere e numeri più famose che esiste, la cosiddetta equivalenza, da segnale uguale, tra l'energia. di un oggetto e la sua massa. Questa è la famosa formula dovuta a questo signore qui, Albert Einstein, quindi l'energia di un qualsiasi oggetto, comprese le particelle elementari o nuclei di uranio, se stiamo parlando di una centrale atomica, è uguale alla massa di questo oggetto moltiplicato, in questo caso ecco, la lettera non sta a indicare una grandezza che cambia, ovvero quella che noi chiameremo una variabile, ma in questo caso è una costante, cioè un numero che rimane fisso, però che ci fa... e abbiamo già incontrato un caso di costante matematica rappresentata normalmente in una lettera, ovvero il pi greco. Noi sappiamo che il pi greco è un numero irrazionale, quindi un numero con infiniti decimali non periodici, quindi è impossibile rappresentare la sua interezza, molto spesso lo scriverete nella forma ridotta e approssimata di 3,14, ma per semplicità soprattutto nelle formule, ma a volte anche nei risultati finali, noi lo indicheremo con pi greco. Lo stesso vale per C. C va a indicare la velocità della luce, più precisamente il vuoto. Per concludere questa breve lezione sulle lettere al posto del numero è anche importante saper riconoscere, questo lo vedremo anche nei problemi, come certe frasi possono tradursi in espressioni letterali. Ecco, quindi vedete qui sulla sinistra alcune espressioni, alcune, scusate, frasi, il doppio di A, il triplo di B, la metà di C e così via, ma noi sappiamo, questa è la potenza della matematica, che questa frase può tradursi in un'espressione di simboli, in particolare di numeri e lettere, scusate, e quindi il doppio di A diventa 2A, notate, non ho messo il segno di moltiplicazione, lo potrei mettere ma è molto più pulito e molto più semplice non metterlo, il triplo di B, ovvero 3B, la metà di C, qui ho diverse opzioni, chiaramente la più semplice scrive C diviso 2, oppure C barra 2, ma fare la metà di qualcosa significa anche prendere la frazione 1 mezzo e moltiplicarla al mio numero. E infine il quadrato di D, vuoi sapere fare il quadrato significa elevare alla seconda potenza, quindi eccolo qui, D alla potenza di 2, ovvero D alla seconda. E con questo è tutto, arrivederci alla prossima lezione!